Un percorso ecosostenibile e inclusivo per valorizzare la cultura e il turismo nel Sasso Caveoso. Fervono i preparativi per la 14esima edizione del presepe vivente nei Sassi di Matera, organizzato dalla Sud Promotion SRL in collaborazione con il Comune nelle giornate del 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre 2024 e 4, 5 gennaio 2025. Il tema di quest'anno, Luce sul futuro, mira a coniugare tradizione e innovazione attraverso un percorso che si snonderà nel Sasso Caveoso coinvolgendo luoghi iconici come Piazza San Pietro Caveoso, Vico Solitario e i rioni Malve e Casal Nuovo. L'edizione 2024 vuole essere un evento per tutti e tutte e considerata l'esperienza maturata e su cui ha inciso la valorizzazione della diversità come valore collettivo sul quale perseverare e continuare a strutturare l'iniziativa già di per sé custode di principi fondati sull'aggregazione e la partecipazione condivisa. Questa 14esima edizione del presepe vivente ha lavorato su questo per far sì che appunto sia i Sassi ma soprattutto il percorso presepiale possano essere usufruiti da chiunque e da tutti. Con l'amministrazione comunale di Matera abbiamo lavorato all'abbattimento delle barriere architettoniche e per quanto riguarda l'aspetto uditivo nelle scene più importanti saranno presenti i LIS, quindi coloro che tradurranno con la lingua dei segni il presepe vivente. Quindi è uno sforzo non indifferente ma è un fiore all'occhiello che la città di Matera può vantare. Il presepe vuole essere anche quest'anno ecosostenibile. Innanzitutto facciamo sparire i generatori autonomi che sono per legge necessari per garantire una continuità elettrica avendoli sostituiti con pannelli fotovoltaici e poi con l'impatto della ricostruzione delle varie capannine e delle scenografie con delle presenze molto minimali fatte di legno, una copertura e poi paglie frasca.